Il corso che ci aspetta è di 4 ore in didattica a distanza, questa nuova formula che stiamo sperimentando tutti, e tratta due aree del diritto che stanno entrando in gioco e stanno diventando abbastanza centrali proprio in virtù delle nuove sfide che la didattica a distanza pone ai docenti, quindi il diritto d'autore e la privacy. L'ordine dei due argomenti, tendenzialmente, almeno io preferisco partire dal diritto d'autore perché poi mi aiuta a fare un collegamento all'inizio invece della seconda parte, quella della privacy, per distinguere le due aree di competenza di queste due branche del diritto, c'è spesso confusione tra copyright e privacy, lo capisco, però vedremo che sono due cose abbastanza diverse in realtà, cioè il diritto d'autore si occupa della tutela delle opere creative, la privacy si occupa della tutela, della riservatezza dei dati personali, sono due cose che vanno in due direzioni molto diverse, cioè il diritto d'autore è quell'istituto giuridico che si occupa di tutelare coloro che di lavoro fanno i creativi e quindi vogliono sapere quali diritti esercitare e poter tutelare sulle loro opere, però opere che sono destinate a essere divulgate e pubblicate. Quindi vedete che in un certo senso è esattamente speculare rispetto alla privacy dove invece ogni privato cittadino ha interesse a tutelare la sua riservatezza e quindi a non divulgare. Ecco, giusto un'introduzione per farvi capire come si tratti di due concetti abbastanza diversi, nonostante poi nel gergo comune vengano a volte confusi, a volte sovrapposti. Vi ho preparato quindi un percorso, quello di oggi è abbastanza standard, cioè un'introduzione sul diritto d'autore, io ne faccio molti di corsi come questo, però cercheremo appunto di fare degli esempi focalizzati sul mondo della didattica a distanza, quindi gli esempi che farò saranno più o meno tutti ispirati a questa nuova sfida che dovete, perché io faccio il formatore, siete più voi che fate i docenti di scuola pubblica a dover accettare questa sfida, che è proprio quella della didattica a distanza. Allora, le prime slide le saltiamo velocemente, nel senso che ci sono i miei dati, le mie informazioni, già è stato detto qualcosa nella presentazione, più che altro vi rimando a Slideshare, perché le slide che vi sto proiettando sono già disponibili sul mio profilo Slideshare, e quindi qua trovate questa presentazione identica che ho messo proprio stamattina, prima di connettermi. Poi, se qualcuno vuole rimanere in contatto con me, più che con me come persona, con i miei argomenti che io tratto regolarmente, qua ci sono gli altri riferimenti. Oggi pomeriggio avrò un altro seminario sulla didattica della musica, sul copyright nella didattica della musica, alle ore 16, trovate tutte le indicazioni sul blog. Le cose che vi racconto oggi sono più o meno sintetizzate in questo capitolo, che si chiama Il diritto d'autore e le licenze europee nell'attività didattica, che si può scaricare liberamente da questo link, ed era appunto parte del libro Didattica 2.0 Scenari di didattica digitale condivisa, che è un libro che mi ha pubblicato ormai due anni e mezzo fa, con la partecipazione di alcuni dirigenti scolastici che hanno guidato vari progetti di didattica innovativa. Quindi appunto, questo funge un po' da dispensa del corso, possiamo dire, cioè il corso della parte di oggi, perché in questo capitolo 5 ho parlato solo di diritto d'autore, non si parla di privacy. E la parte sulle licenze open e l'attività didattica. Ovviamente questo è un capitolo fatto nel 2017-2018, non c'era un focus particolare sulla didattica a distanza, perché è una cosa che appunto, benché esistesse prima, l'abbiamo però scoperta tutti in questi mesi di emergenza, e però vedrete che più o meno le cose che diciamo oggi, almeno per la prima ora, sono neutre, diciamo che vanno bene sia per la didattica classica in aula, sia per la didattica a distanza. Sento in sottofondo qualcuno che ha ancora il microfono aperto, vi chiedo per favore di chiudere tutti i microfoni in modo tale, esatto, grazie, così sento solo me stesso. Perfetto. Parte prima un'introduzione sul diritto d'autore e perché ci occupiamo di diritto d'autore in ambito didattico, perché non è che sia così scontato, nel senso che fino a qualche anno fa il problema non si poneva, si è posto il problema della gestione del diritto d'autore nell'ambito della didattica quando ai docenti è stata data la possibilità di cambiare il loro ruolo e di renderlo molto più creativo e molto più propositivo, anche vedete nella realizzazione di contenuti didattici. Questo è un estratto di un documento che ormai anche lui ha i suoi anni, sembra una cosa recente, del 2014-2015, ma in realtà appunto il piano nazionale scuola digitale ha già un po' di anni e vedete che si parlava nell'azione 23 della promozione, cioè tra le azioni di cui questo piano si voleva far carico, c'era proprio la promozione delle risorse educative aperte e delle linee guida sull'autoproduzione dei contenuti didattici digitali, perché è chiaro che la sfida del diritto d'autore si apre proprio quando il docente non è più il semplice utilizzatore di un manuale o di un materiale che gli arriva dall'alto, ma diventa lui per primo il produttore, il creatore di dispense, di slide, di piccoli siti web, prodotti multimediali, video didattici. Nel momento in cui fate queste cose ovviamente iniziate a incrociare costantemente il terreno del diritto d'autore, sia il vostro diritto d'autore nel senso che diventate autori a vostra volta e quindi volete sapere come tutelare i diritti sulle vostre opere, ma anche il diritto d'autore degli altri, cioè il diritto d'autore di tutti coloro che hanno prodotto i contenuti che voi avete preso e riutilizzato per fare il video, per fare le slide, per fare la dispensa, perché quasi sempre succede questo, è difficile che si parta da una tabula rasa e si crei qualcosa di totalmente originale. C'è sempre magari l'immagine, lo schema, l'esercitazione presa da un libro, la musica di sottofondo e via dicendo. Quindi qua si pone un problema di diritto d'autore non da poco. Quindi dicevo il piano nazionale di scuola digitale che occorre fornire alle scuole una guida che distingua con chiarezza le varie tipologie di risorse digitali disponibili, i criteri e le possibili forme del loro uso, illustrando in particolare per quanto riguarda l'autoproduzione dei contenuti le modalità dei processi di selezione, produzione e validazione, nonché le caratteristiche tecniche da rispettare per massimizzare qualità, efficace e riusabilità dei contenuti. Insomma, tante belle parole molto dense di significato e di responsabilità. Ci carica andare verso l'autoproduzione dei contenuti insegnare, imparare e insegnare ai nostri studenti come selezionare, produrre, validare e poi fare tutto ciò nell'ottica di massimizzare qualità, efficace e riusabilità dei contenuti. Ho messo in rosso riusabilità perché questo poi ci servirà, la chiave della riusabilità, proprio per parlare delle cosiddette risorse educative aperte, quelle che vengono rilasciate con una licenza aperta che permette proprio di essere riutilizzate. Ed è quello un po' che torna utile per la didattica a distanza, perché se io ho, che ne so, un mio collega docente che il mese scorso ha fatto un progetto molto simile a quello che voglio fare io, posso evitare di dover reinventare la ruota, come si dice in gergo, e partire da quello che ha fatto lui e magari eventualmente migliorarlo, adattarlo alle mie esigenze, ma appunto risparmiando un sacco di ore di lavoro e di fatica, inutili fra virgolette, perché alla fine vogliamo arrivare entrambi allo stesso risultato. Infatti vedete tutto ciò, dice l'azione 23 ancora, tutto ciò nell'ottica di incoraggiare processi sostenibili e funzionali di produzione e di distribuzione che possibilmente aiutino a far emergere e diffondere i materiali migliori e facilitino la validazione collaborativa del riuso, eccoli qua, garantendo anche un regime di diritti che si è sensato e funzionale per le Open Educational Resources. Noi siamo qua, cioè il nostro corso è sostanzialmente quello di oggi, mirato a capire che cosa si intenda per un regime sensato e funzionale di diritti d'autore per arrivare alle cosiddette Open Educational Resources, e faremo esattamente questo giro, cioè ci occuperemo del diritto d'autore, in senso più generico, e nella seconda parte del seminario arriveremo a vedere come le licenze Creative Commons, che sono le più note, ce ne sono anche altre, però parleremo di quelle perché sono le più note, le più diffuse, permettono di rendere aperte le risorse educative, le risorse didattiche. Come vi dicevo prima, quasi mai siamo in un'ottica di semplici utilizzatori oppure di semplici creatori di opere, questo è uno schema che uso più o meno in tutte le mie lezioni, per far capire che il diritto d'autore va studiato in queste due ottiche, con questi due punti di vista, per averne una visione completa e organica, ovvero da un lato ci siete, ci sono diciamo coloro che creano i contenuti e vogliono sapere che tipo di diritti hanno, cioè loro sono titolari dei diritti sulle loro opere, che tipi di diritti hanno, come li possono difendere, come diventano titolari dei loro diritti e via dicendo. Però dall'altro lato ci sono tutti gli altri, cioè tutti coloro che invece utilizzano, riutilizzano contenuti o opere fatte da altri e quindi sono utilizzatori di opere. E questi ovviamente hanno un'esigenza contraposta, cioè loro vogliono sapere se e come e in quali termini possono riutilizzare le opere già fatte da altri in precedenza e quindi quali spazi di azione hanno, di margini di azione hanno per utilizzare qualcosa di preesistenza senza incappare in una violazione di diritti d'autore. Come dicevamo all'inizio però non è che siamo, cioè questa riga bianca è in mezzo, in realtà è sfumata, io l'ho messa così perché le mie capacità grafiche sono più o meno queste, ma in realtà ci sarebbe una sfumatura qua in mezzo a cavallo dei due quadratoni perché non siamo quasi mai nettamente di qua o quasi mai nettamente di là. Abbiamo detto prima, anche chi crea normalmente parte da qualcosa che qualcuno di lui prima ha creato e anche chi riutilizza spesso aggiunge del suo, spesso modifica, basta vedere quello che facciamo con i cellulari, scarichi la foto, la ricarichi, gli aggiungi un filtro, gli aggiungi un commento, fai una didascalia, aggiungi del significato e quindi in qualche modo hai aggiunto anche una parte di creatività tua e quindi su questa riutilizzazione magari anche tu che sei semplice riutilizzatore però hai dei diritti. Faremo esattamente questo, cioè noi ci sposteremo in tutta la lezione di oggi a cavallo di queste due aree, questi due punti di vista. Ovviamente partendo da quello arancione, mi sembra anche abbastanza logico, cioè prima bisogna capire quali sono i diritti che entrano in gioco e chi li esercita e in quali termini, in modo tale che una volta che abbiamo chiaro questo punto di vista, spostarsi di là è più semplice, cioè sappiamo che nel momento in cui siamo utilizzatori almeno già sappiamo che dobbiamo chiedere il permesso e in quali termini.